Benissimo, allora intanto benvenuti, grazie di essere venuti, io mi chiamo Paolo Sanmicheli, sono uno Scrum Trainer e un Agile Business Coach. Come Scrum Trainer io lavoro con Jeff Sutherland, il coautore di Scrum e dell'Agile Manifesto, con una società che si chiama Scrum Inc. Sono conosciuto per due cose principali, la prima è questo libro qua, che si chiama Scrum for Hardware, questa versione in italiano in realtà si chiama Scrum per Hardware. Che cosa significa hardware? Hardware è un oggetto fisico che può contenere del software, perché il software è ormai ovunque in oggigiorno, ma ha anche elettronica così che il software possa funzionare, ha anche meccanica, cioè ha anche insieme per una funzione specifica di funzionamento, materiale composito o rivestimento di qualsiasi tipo, ovvero sempre atomi, ma con una funzione estetica o di protezione, quindi sempre atomi ma con una funzione e un ciclo di vita diverso. Può esserci un motore, delle ruote muoversi come un veicolo, potrebbe esserci le ali e volare come un razzo o un aereo militare. Tutto insieme come poterlo sviluppare utilizzando il framework Scrum. Non parlerò di questo argomento qui, se vi interessa quello è il sito, potete andare a vedere. Di cosa parlerò oggi? Parlerò di intelligenza artificiale, quindi il mio secondo libro, che ho una stampa di prova perché su carta ancora non è disponibile, è disponibile soltanto in ebook. Questa è una stampa di qualche mese fa, quindi sono poche pagine, sono 160, adesso ho superato già le 200 nella versione ebook. E quindi parlo di che cos'è intelligenza artificiale. È un tema abbastanza ampio, principalmente machine learning ma non solo. In che modo? Organizzare un gruppo di sviluppo per poter creare prodotti basati su intelligenza artificiale con successo direi. Il libro lo potrete scaricare poi se lo volete con il link gratuito che vedete. Il QR code poi alla fine c'è anche in versione grande, quindi se poi vi interessa lo lascio quando è finita la giornata. Di questo argomento potrei parlare per una settimana piena, ok? Perché c'è veramente tante cose, siamo specialmente parte da zero. Materiale aggiuntivo, sul mio canale YouTube trovate video, interviste, conferenze vecchie e così via. Sul LinkedIn è dove pubblico gli articoli e quindi se volete leggere qualcosa di me trovate sul LinkedIn oppure se semplicemente volete entrare in contatto con me, mi aggiungete. E cos'altro? Il mio sito, slash download, ci trovate anche le slide dei case study che ho fatto delle varie aziende dove ho implementato questa roba. Quindi sulla parte, diciamo, se volete scaricare slide e cose così via, sulla parte, download del mio sito trovate. Poi se, chiaramente poi parlate tutti in italiano perché sto parlando in italiano io, c'è un sito che è soltanto in italiano, quindi l'altro invece sono multilingua, che si chiama Scrum.click. Quindi se non sapete cos'è Scrum, la parte didattica del metodo è su questo sito che è fatto un po' come Wikipedia, quindi è creative commons, è liberamente accessibile, riutilizzabile e quant'altro. È nato come... Prego, benvenuti, accomodatevi. È nato come sito didattico per gli studenti del mio corso ma è usabile liberamente e gratuitamente da chiunque. Quindi, perché l'intelligenza... no? Perché è l'incontrario della stupidità naturale e quindi avere a che fare una macchina che sembra intelligente è sicuramente molto affascinante, specialmente se si è abituati in situazioni diverse, opposte direi. Ma prima di andare avanti con il tema, conosciamoci. Quindi, sul vostro telefonino andate su www.menti.com, che in italiano suona un po' male, quindi non è un invito a mentire, ma così si chiama, e vi chiede un numero. Il numero da mettere è quello che vedete in altro, 86272205. Quindi menti.com e mettete il codice, non so se si legge anche dal fondo, si vede? Ok. E quindi, la prima domanda, qual è il vostro job title? Cioè, come vi fate chiamare a lavoro? Che cosa fate a lavoro? Potete incominciare a scriverlo e automaticamente dovrebbero incominciare a apparire le risposte a schermo, via via che ve le inserite. Vediamo un po'. Ciao a tutti. Prima di andare avanti con i clic che chissà che se funziona. Funziona! Ok. Qual è la vostra conoscenza rispetto allo sviluppo di intelligenza artificiale? Bene. Andiamo avanti. Qual è la vostra conoscenza di Scrum and Agile? Quindi che cosa sapete di Scrum e Agile? Mai sentito? Mai usato? Quanto ritenete sia difficile sviluppare intelligenza artificiale, secondo voi. Ok. Quindi qualcuno ritiene sia più o meno la stessa cosa, la maggioranza direi, ritengono sia più difficile e un'altra minoranza ritengono sia molto più difficile. Quindi, se siete qua, quantomeno avete un interesse sull'intelligenza artificiale, quantomeno non viene pelle, insomma. Quindi, la buona notizia qual è? La buona notizia è che nonostante la pandemia, il numero di aziende che hanno investito di più sull'intelligenza artificiale sono una larga maggioranza. Il 64% delle aziende intervistate nel 2021 ha spesso di più in ambito di sviluppo di soluzioni basali sull'intelligenza artificiale rispetto all'anno precedente. E ci sono un sacco di aziende, qui c'è il confronto 18-19-19-20, che l'83% nel biennio 19-20 rispetto al 71% del biennio 18-19 hanno investito di più in intelligenza artificiale rispetto all'anno precedente. Quindi c'è un trend di crescita molto spinto, molto, come dire, maggioritario, quindi più facile trovare aziende che investono di più rispetto a aziende che investono uguali o di meno. E quindi, se siete qui, vi interessa l'intelligenza artificiale, buona notizia, ci sono ampie chance di uscire da qua fuori e trovare qualcuno al semaforo che vi dice, ah, stavo cercando un qualcuno per potere. Sì. Non so se possiamo interrompere. Ma sì, tanto siamo a mio frattempo. Ma vorrei chiederti, ma c'è un settore specifico, aziende, che intendi per aziende? Nel link c'è un pdf che sono una trentina di pagine in cui c'è lo spaccauto dei dati. Quindi poi c'è, io ho messo data aggregato, ci sono la differenziazione tra le aziende piccole, medie e grandi e c'è la differenziazione tra sia i continenti, quindi dividono United States da Europa, da Asia e poi fanno il resto del mondo e quindi volendo nel link trovi lo spaccauto dei dati. Questi trend che io te li porto è perché il trend globale rispecchia il trend del locale. Quindi anche se prendi solo l'Italia, se prendi solo l'Europa o se prendi solo gli Stati Uniti piuttosto che solo il Sud America, il trend è abbastanza… i dati divisivi su cui c'è la regionalità non li ho presi, anche perché ho preso questo alla fine dei dati. E un altro che vi faccio vedere adesso, quindi è abbastanza significato. Cioè è un trend ovunque ma tutto è il trend? Sì, magari se non è il 64 e il 49 considera che è alta priorità, potrebbe essere il 38, ma insomma cambia poco. La proporzione rispetto alle altre fette è abbastanza omogenea in un po' tutti i settori analizzati e anche le differenze tra piccola impresa e larga impresa, corporation. Ci sono dei trend che sono diversi, però quelli non sono stati a prenderli. Qual è la brutta notizia? Perché c'è da parlare di questo argomento? C'è Andrew Ng che è un po' una divinità nel mondo dell'intelligenza artificiale, professore a Stanford, fondatore di Deep Learning AI, lavorava in Google, fondatore di Google Brain e così via. Dice se solo quello che ci fosse da fare fosse quello di performare bene sui dati di test, la vita sarebbe molto più facile. Perché sempre secondo Andrew Ng nel corso che lui fa per Stanford di intelligenza artificiale e machine learning, che è disponibile anche sulla piattaforma Coursera, quindi è anche facilmente seguibile, secondo lui tra avere un modello che funziona su dei dati di test, su un sistema di prototipizzazione, no Jupiter, per i quei sistemi là, e poi portarlo in produzione e farlo usare dei clienti veri, ecco quello di avere un prototipo funzionante è il 5-10% del lavoro. Che per chi viene dal software è un pochino disorientante, perché uno non si aspetterebbe che il salto per avere un qualcosa di produttivo che genera valore, che su cui possiamo costruirci uno stipendio sia così ampio, non è così nel software tradizionale. È difficile andare in produzione, richiede competenza, ma non è un salto del 90%. E poi ci sono questi dati, sempre da quelle torte di prima, in cui l'11% dell'organizzazione, solo l'11% delle organizzazioni riesce a mettere un modello in produzione in una settimana, ma il 64% delle aziende ci mette più di un mese. E il dato peggiora con la dimensione dell'azienda, che è il contrario di quello che uno si aspetterebbe, cioè più grossa l'azienda e più che questo dato diventa, come dire, abbastanza sconfortante. Il 38% dell'organizzazione ha i loro data scientist, quindi gente che ha studiato matematica e dovrebbe pensare a modelli, a far funzionare in maniera ad alta accuratezza questi modelli, spendono più di la metà del loro tempo solo per andare in produzione. Quindi, guardando questi numeri, si ha un'idea di come l'approccio allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale rispetto a quello che sono lo sviluppo del software tradizionale, rischiamo a quelle che era all'ambito 80-90, le tematiche degli anni 80-90, anche se negli anni 90 sviluppare software in maniera tradizionale non aveva questi numeri così deprimenti. Io non ricordavo, già lavoravo, perché sono falso giovane, sono abbastanza vecchio, già lavoravo nel 90, non era questa la situazione. Quindi c'è probabilmente degli strumenti che devono essere ancora inventati, degli strumenti che devono ancora essere conosciuti, un modo di rapportarsi che ancora non è stato ben digerito dalle organizzazioni. E più sono grandi e peggio è. Questi sono gli atti di una conferenza che si chiama Transform 2019, ovvero sta all'ultima conferenza su questi temi prima della pandemia, quindi l'unica conferenza in presenza prima della pandemia. Quei due signori che vedete, il signore e la signora, nella foto sono uno, Chris Chappo, che è il Senior Vice President di Dati e Analytics di Gap, che è un marchio di moda abbastanza conosciuto, e l'altra è la CTO della Data Science and AI di IBM. Quindi le persone che probabilmente sanno il loro, sanno il fatto loro. E quello che viene fuori è che l'87% dei progetti di Data Science nelle corporation, quindi questo è il segmento solo delle organizzazioni grandi, l'87% non va in produzione. E questo è disarmato. Perché? Ci sono un po' di quote, un po' di robe che... Innanzitutto perché l'approccio delle grandi corporation è lo stesso del software. Ovvero, c'è da fare delle robe, la prima cosa da fare è prendere una secchiata di soldi e rovesciare una secchiata di soldi al problema, sperando che questo risolva il problema. Ecco, quello che si osserva è che non basta spendere tanto. Non c'è, non basta. Certo occorre investire, la persona dice partite pane e salame, ma non basta per avere successo. Il problema sono i dati, l'accessibilità dei dati e da una parte anche la normativa rende complicato l'accesso ai dati. Da quell'altra dice le aziende sono strutturate a silos e hanno una sorta di naturale tendenza a proteggere l'accesso ai dati da altre parti della stessa azienda. I manager, lack of collaboration, quindi i manager non hanno la preparazione e l'incentivo a permettere un accesso facile ai dati del, diremmo assieme al loro orticello. E questo fa sì che chiunque ha sviluppato un po' di intelligenza artificiale, se io levo l'abbondanza e la qualità dei dati nell'equazione sappiamo che il risultato diventa estremamente, estremamente povero. E poi l'ultima parte, che poi è l'aspetto fondamentale delle chiacchiere che facciamo oggi, dell'esperienza che vi posso portare dalle aziende che in pratica cercano di fare queste cose per davvero, il data scientist non è stato inventato adesso, dice giustamente Chris Chappell, dice c'è sempre stato, è dall'anni 80 e 90 che si parla di scienza dei dati. La differenza sostanziale è che prima il data scientist era un ruolo relegato a devo fare questa ricerca, sto facendo questa cosa e quindi poteva essere compartimentato. Adesso è un gioco di squadra, dici, è un team sport, è un gioco di squadra e quindi occorre trovare modo per integrare queste professionalità così diverse dal software tradizionale in una maniera che portino la responsabilità del risultato sull'intero gruppo. La differenza fra lavorare come individuo e lavorare come una squadra è che nella squadra o si vince tutti o si perde tutti, non c'è spazio per l'individualismo e l'egoismo. Io ho fatto la mia parte, immaginate se la domenica sera sentisse un giocatore dire in televisione un'intervista dove una partita magari persa, se perso ma io il mio l'ho fatto, cioè verrebbe linciato dai tifosi, non è accettabile in altri ambiti e purtroppo invece nelle aziende quello si trova è che una fortissima specializzazione, perché tutte le persone che non hanno la laurea, hanno il dottorato su quegli ambiti lì, ci hanno lavorato magari per vent'anni, ma una fortissima personalizzazione, una fortissima professionalizzazione porta a una mancanza di collaborazione che poi produce un risultato che semplicemente non è quello che va bene poi a tutti, non è quello che ci porta al successo della nostra organizzazione. Quindi perché sviluppare l'intelligenza artificiale così difficile? Nel libro io ho elencato tutta una serie di cause, di quelle identificate, intervistando persone e leggendo un po' in giro. C'è il problema che appunto, gran parte del machine learning è un problema a scatola nera, si dice, nel senso io ti addestra il modello con dei dati sperando di produare dei risultati, ma solo a posteriori, sappiamo se quell'approccio ha pagato o no, ed è un approccio iterativo incrementale per sua natura, che per il business è qualcosa che è fortemente indigesto, perché il business tipicamente va da gruppi di sviluppo, vedo molta gente che annuisce, e dice c'è da fare questo per quando è pronto, e con un approccio di sviluppo a scatola nera, questo è particolarmente difficile, se non impossibile. Ci sono dei problemi su come poterla testare l'intelligenza artificiale, ci sono dei problemi su come diagnosticare, debugging, cioè togliere gli errori eventuali e le incongruenze, ci sono problemi sul fatto del ciclo di vita, abituati che se c'è da fare un software, non so, di contabilità, o anche qualcosa un più sofisticato, ma comunque un software su internet, l'investimento poi potrà essere ammortizzato negli anni. Su degli ambiti dove c'è un tasso di innovazione così rapido, domani mattina potrebbe uscire un paper dall'università da quell'altra parte del mondo e ti rende vano gli sviluppi e gli investimenti che sono stati fatti fino a ieri, perché quel modello diventava, quell'approccio al problema diventava obsoleto. E queste sono le spade di damocle che il business odia e non se ne vuole far sentire, occorre un framework di collaborazione che porti tutti sulla stessa barca, perché se no la barca non può andare. Lasciamo perdere la sicurezza, lasciamo perdere il problema dei bias, lasciamo perdere tutta la regolamentazione che cambia e quindi necessità di adattarsi al volo di cose che vengono dall'esterno. C'è il tema proprio dello sviluppo. Cioè lo sviluppo è intrinsecamente, perché questo è il modello concettuale, quello che succede è che da qualsiasi momento, da qualsiasi step, ti puoi ritornare indietro, non di un passo ma anche di molti o tutti. Quindi è un approccio decisamente iterativo e non lineare. Ora, se un'azienda, tipicamente corporation, gli piace pensare invece a una progettualità di tipo lineare. Gli ingredienti per l'insoddisfazione sono abbastanza ricchi, insomma è facile conucinare una ricetta di insoddisfazione. Se il tuo approccio è lineare, la natura stessa del problema è non lineare. E quindi la conversazione, questo è un fumettino che ho preso sempre da Andrew Ng nel suo corso e l'ho messo anche nel libro, e la conversazione, i sviluppatori dicono, ah, il nostro modello ha un'accuratezza molto buona nei dati di 7. E il produttore dice, sì ma il problema di business l'abbiamo ancora risolto. Eh sì ma su dati di test funziona bene. E questo è il gap che, da un certo punto di vista, c'è sempre stato la dinamica business e tecnici. Adesso c'è sul fronte ancora più lontano anche i data scientist o machine learning engineer, ci sono mille sigli oggigiorno, insomma chiamateli come volete, qualcuno che deve lavorare su questo tipo di oggetti. Non vi farò, vi racconterò delle storie, non vi faccio, ci saranno delle parole un po' difficili per qualcuno che non è familiare con Scrum, ma cercherò di portarvi delle storie, delle cose che ho visto. Ok? Quindi il libro è diviso su tre parti. C'è la prima parte in cui c'è i fondamenti, che cos'è l'intelligenza artificiale, che cos'è l'agile, che cos'è Scrum, quindi un po' di fondamenti per chi parte da zero. La seconda parte è il libro in cui, ok, parliamo di come fare uno sviluppo agile su problemi di questa categoria qua. E la terza parte l'ho chiamata coaching conversation, cioè ho incontrato delle persone o anche l'ho intervistata via Zoom in cui mi hanno raccontato la loro storia. E non sono success story necessariamente, ma sono anche storie di grande apprendimento sicuramente, ma anche di fatica e insuccesso. La prima storia è un team che doveva sviluppare un'applicazione per allevare animali. Ok? Sto un po' sul generico perché questa è una storia anonimizzata, quindi non voglio entrare troppo nei dettagli per non far capire quale potrebbe essere l'azienda. E quindi c'era una parte di software tradizionale, quindi la gestione degli animali, quindi quanti animali ho, quanti sono stati vaccinati, quanti sono stati medicati, quanti io ho da mangiare, quanti sfortunatamente sono deceduti, quindi tutta gestione degli animali, ma anche cose triviali tipo il magazzino del mangime, ok? Quindi un'applicazione di gestionare per allevatore. E poi l'idea di dire, ok, abbiamo tante informazioni, alcune le possiamo anche raccogliere con dei sensori, potremmo fare un'analisi predittiva di animali che manifestano sofferenza, di modo che l'allevatore possa sapere, ah, devo chiamare veterinario perché c'è, oppure se c'è dei soggetti che sono nella stessa area con dei sintomi, sapere che magari devono essere trattati tutti i pelli che sono vicino a lui, cosa è questo tipo? Chiaramente questo permetterebbe, se fosse di successo, di poter trattare gli animali meno, quindi avere meno medicinali con una maggiore qualità per l'animale finché è in vita e per i consumatori domani per la carne che otterrebbero. Spero nessuno di voi sia vegano che sia scandalizzato a questa cosa. Come si sono organizzati? Beh, c'è da fare la prima parte, la prima parte è il software, facile, faccio un team cross funzionale, quindi come si fa in Scrum, si mette un team con tutti quelli che possono contribuire per creare il prodotto, gli faccio fare delle iterazioni molto brevi, in questo caso due settimane, e a cicli molto brevi faccio vedere alla controparte di business gli avanzamenti per avere dei feedback molto, molto, molto frequenti e molto presto, di modo che costi molto poco cambiare direzione e aggiustare le cose e come uno si aspetterebbe facendo il lavoro che faccio io, si va verso il primo minimum viable product, cioè la prima versione del prodotto che presentato a degli allevatori veri ha avuto successo, quindi c'erano degli allevatori veri, quelli che passano tempo più con gli animali e con gli uomini, dire bella questa app, la voglio, sono disposto a pagare un canone per avere la versione in anteprima. Quindi chi di voi, molti di voi, forse la maggioranza, è abituato alle start up, sa che parto da un concept, faccio un primo MVP, trovo dei clienti paganti che mi vengono a bordo per il resto dello sviluppo, yeah, la strada è spianata verso il successo. Che è successo? Che nel momento in cui l'MVP ha avuto successo e quindi clienti veri erano disposti a pagare per poter avere accesso alla versione di anteprima di questa applicazione, che cosa si fa quando c'è un problema nelle grosse corporation? Una secchiata di soldi sul problema e quindi hanno cominciato a assumere più sviluppatori, perché si deve andare più veloce. Ora c'è la cosiddetta legge di Brook che dice che aggiungendo persone a un progetto in ritardo, questo lo fa ritardare ulteriormente, aggiungendo persone a secchiate a un team non fa andare più veloce, ma fa aumentare la complessità di comunicazione. Tanto è vero, il framework Scrum vi dice non superate dieci persone, perché aggiungendo una persona a un gruppo di dieci in realtà non guadagnate dello skill e della nuova persona, perché? Perché diventa molto più complessa la comunicazione e non vedete nessun vantaggio. E quindi quando siamo in tanti, che cosa succede? Che si parla con quelli che sono simili a noi, quindi si cerca di trovare la soluzione a un problema di fatto di cattiva comunicazione, dividendosi, parlando solo con quelli con cui è estrettamente necessario parlare. E in pratica, per chi è sviluppatore, che succede? Che i front-end parlavano soltanto con i front-end, front-end è la parte visiva dell'applicazione, i back-end, quelli che facciamo all'allogia, parlavano soltanto al back-end e a un certo punto, mentre si lanciavano le MVP, hanno detto ok, abbiamo abbastanza applicazione per mettere anche qualcosa di intelligenza artificiale, prendiamo un data scientist. E hanno visto questa persona estremamente brillante, ma solo perché gli altri erano sulla parte software. C'erano anche i UX e quelli parlavano soltanto con i business, soltanto fra di loro. Per questo tizio giallo, che era il data scientist del gruppo, qual'era la situazione? Che il resto della squadra dice ok, te fai il tuo, lui mi ha detto, testa le parole, il tuo AI voodoo, cioè la tua magia voodoo di intelligenza artificiale, guarda nei dati, trova che cosa è interessante e poi lo mostriamo nell'applicazione. Quindi lui lavora da solo e tutto il resto dello sviluppo andava avanti secondo gli sviluppi dell'applicazione normale. E quale sta col problema? È che lui si è messo a guardare nei dati e nei dati non c'era un segnale forte che dava un'indicazione predittiva su sofferenza di questi animali. E quindi l'idea di ok, potremmo far vedere queste cose qui, dove la mettiamo nell'app, è stata ritardata ulteriormente. A un certo punto, insisti, insisti, chiedendo dei dati diversi, aggiungi un sensore, togli un altro, fai tutta una serie di robe, alla fine, dopo più di un anno di sviluppo, è immerso qualcosa nei dati. Quindi, ok, usando questi dati, questa relazione nei dati, possiamo determinare delle anomalie. Delle anomalie, quindi l'animale ha dei dati associati anomali rispetto alla media e quindi è un caso che quantomeno devi chiamare il veterinario, da capire cosa sta succedendo. E quindi, nel prototipino dei dati, fatto sopra i dati dell'applicazione, questo dato usciva fuori. Yeah, success! Quindi cosa si aspettava il business? Boh, ce l'abbiamo fatta, ora c'è da fare l'ultimo miglio, si dice anche, no? Last mile, c'è da fare l'ultimo miglio. C'è un problema, che è l'incontrario. Avevano fatto il primo miglio, ma non sapevano quanti miglia ci avevano davanti. E nel momento in cui si sono messi insieme, i sviluppatori hanno detto, sì, va bene, esponici questo dato con API REST, perché, insomma, è il modo facile per consumare queste informazioni, e noi lo mostriamo. E questo qui rimase a dire, no, io lo devo fare? Non lo avresti fatto voi? E qui iniziano le frizioni. L'altro aspetto era che il debito tecnico, che era stato accumulato nell'anno che il data scientist stava cercando qualche cosa, a causa di questo accrescimento eccessivo del team, aveva comportato il cosiddetto debito tecnico. Cioè, sono state prese delle scocciatoie per, facciamo funzionalità, facciamo funzionalità, ma c'è andata anche la pressione, no? Ci sono degli allevatori veri che stanno lavorando nella nostra applicazione? Hanno chiesto questo, bisogna fargliela. E quindi a un certo punto è successo che certi sviluppatori, che erano consulenti, hanno cominciato ad andarsene, ne sono entrati nuovi. E quando comincia a ricambiare troppo spesso le persone del team, ecco che c'è un anormale degrado della qualità. E quindi non solo il data scientist non aveva idea di come esporre in una maniera facile o consumabile da loro il dato che aveva provato lui in maniera prototipale, ma l'infrastruttura del cosiddetto back-end non era nemmeno pronta a consumare questo dato, perché c'erano da sistemare delle altre robe. E quindi chiesero delle stime. Quanto ci vorrebbe a fare questo? Mentre producevano queste stime, l'anno finì. E dopo un anno che non c'era niente di nuovo su questa applicazione, su questa cosa, per differenziarsi, perché finora era soltanto gestionale, fece sì che la sfortuna, determinato che è cambiato un manager, cambiati i manager, cambia direzione e il budget va da un'altra parte. Il data scientist a quel punto dilottato su un altro progetto a più alto valore e questa roba qua in produzione non c'è mai andare. E quindi questa è la storia di un'applicazione che adesso è l'instand buy, da quasi un anno, e la parte che avrebbe potuto dire, ok, questa applicazione vale molto più di altre perché fa anche l'effetto wow, in realtà è proprio gestionale, quindi non si ripaga da sola per quello che il mercato richiede. Quindi, si ritorna perché è arrivato ora, si fa un sondaggino e ci sono alcune domande, quindi la prima domanda vi chiede, secondo voi, quali sono le parole chiave di questa storia? Cioè, se voi dovresti fare tipo gli hashtag, le parole chiave di questa storia, che cosa mi metteresti? Vediamo che cosa ha colpito la maggioranza. Ok, poi dopo nelle slide che pubblicherò ci metterò l'immagine, questa qui, così poi anche chi ci vedrà registrati potrà vederlo. Ok, domanda successiva. Secondo voi, che cosa avrebbe aiutato questa squadra? Nient'altro? Siamo avanti. L'intelligenza emotiva, per la parte dei conflitti, eh sì, soprattutto era di dire, no, che fa il tuo, poi dopo. Come siamo i tempi? Sì, passiamo la mezz'oretta. Storia numero due. Questa storia parla di un team che fa una cosa che si chiama NLP, che era Natural Language Processing, cioè la comprensione del linguaggio naturale. Quindi la macchina che capisce quello che dice l'uomo. Qual è il problema? Questa è una grossa farmaceutica e ha una base dati di testo non strutturato, cioè testo libero, ok? Quindi privo di categorizzazioni che permetterebbero di trattarlo, vastissima, come immaginate. Se voi pensate, la farmaceutica ha tutte le richieste che arrivano al call center, le richieste che arrivano per iscritto da medici, le richieste che arrivano dai pazienti, le richieste che arrivano dal personale di raccordo, i cosiddetti informatori scientifici, quindi il raccordo tra personale medico e personale non medico. Quindi una base dati di testo, vastissima, più di quello che può, anche compartimentato per regioni, più di quello che umanamente può leggere e ricordare un essere umano, ok? E il fatto che dentro questi dati esiste la certezza che ci sono i segnali, i cosiddetti early indicator, cioè i segnali iniziali, che danno delle informazioni, i cosiddetti insight, che da punti di vista medio sono importantissime. Cioè se voi riuscite a correlare il fatto che nell'ultima settimana 10 persone dall'Australia, 10 dagli Stati Uniti e 8 dal Giappone, tutte stanno chiedendo la stessa cosa, ad esempio una roba è posso prendere questo farmaco insieme al succo di frutto di mirtillo? potresti dedurre che, guarda caso, il cambiamento recente di un eccipiente, di un particolare farmaco, ha una relazione allergica con una cosa innocua, questo è un caso reale, no? Ad esempio il cortisone non dovete bere il pompelmo, ok? Cioè se uno non lo sa, ok? Allora, e queste cose non sono... Eh, l'ho progettato, l'ho messo sul mercato, è quello, no? A volte ci sono delle cose che emergono dopo degli anni, a volte è perché è cambiato il tipo di mirtillo, non è cambiato il tipo di farmaco, a volte è cambiato il tipo di farmaco. Avere questi segnali vuol dire fare un medical trial, fare degli esperimenti immediatamente, avere dei dati scientifici, dire no, è una casualità, perché spesso nei dati ci sono delle correlazioni che non sono causali, che sono semplicemente, hanno lo stesso fenomeno, oppure, ah no, attenzione, sta emergendo questo problema. Parlando di medicina si potrebbe parlare anche, quantomeno, se non di salvare le vite umane, di aumentare la qualità della vita. E quindi l'idea è, abbiamo un'azienda in tutto il mondo, con tutte le lingue del mondo, hanno pacate di testo strutturato, non strutturato, tutti i giorni. Come si fa a capire cosa c'è qui dentro e scoprire in questa matassa gigantesca se ci sono delle cose nuove di cui la gente sta parlando? Hmm, problemino interessante, no? Qual era la sfida? Ok, l'azienda, grossa azienda, quindi secchiata di soldi. Bene, prendiamo un po' di gente. Qui il vantaggio c'ero anche io, in quella gente, quindi, ok, come potremmo strutturarci? Ah, siamo 18, buoni i femmini, troppi. Dobbiamo trovare un modo per organizzarci. Ma soprattutto la tecnologia è di per sé estremamente versatile, perché con lo stesso motore ci potete ascoltare le telefonate del call center dei pazienti, ci potete leggere i carteggi che arrivano dall'ospedale, i report che fanno i promotori scientifici, oppure banalmente analizzare i dati di borsa, vedere le trimestrali di borsa e capire di che cosa stanno parlando le aziende mediche in quel trimestre e quindi capire se c'è una tendenza rispetto a certe robe. Quindi se può essere utilizzato per fare, non so, business intelligence, può essere utilizzato per ascoltare sui social network di cui si parla e capire se c'è assoggettato al nostro market sui social network dei pazienti che si lamentano, oppure dei canali ufficiali. Quindi che vuol dire, per chi ha fatto un minimo di agile Scrum, il cosiddetto product owner, cioè nel Scrum ci ha questa visione romantica di una persona che si chiama product owner, che è il proprietario del prodotto, che parla con gli stakeholder, cioè coloro che hanno un interesse in ciò che facciamo, capisce cosa serve e poi lo dice al gruppo di sviluppo. Ma se davanti c'è una piramide di persone completamente diverse, immaginate andare a parlare con delle persone di business e vogliono capire dei report, delle trimestrali di borsa, piuttosto che andare a parlare con un medico o con un paziente. Il problema era molto, molto ampio. Dei vari use case, cioè delle cose che si potevano fare, alla fine ammartellate se riuscite a ricondurli a quattro, che per chi ha fatto un minimo di sviluppo prodotto dice già, è in enormità comunque. I sviluppatori, alla fine eravamo arrivati a 15 sviluppatori, ma 15 è un numero già abbastanza maligno, perché ci si divide in due squadre, in tre squadre, su che modo ci si organizza. Quindi a chi si occupa, come me, di coaching, quindi di organizzazione delle squadre, è un numero che comincia già a entrare nella scala del non vado a un pilota automatico, devo pensare. E di nuovo, era come quella di prima, una start-up vera e propria, nel senso, anche se dentro un'azienda, era comunque un'iniziativa che doveva dimostrare il valore. Quindi non era una cosa di dire, ah sì, devo fare questo, perché? Perché, non so, lavoro tanto anche con le banche, no? Perché dobbiamo fare questo? Perché ce l'ha detto la BCE? Ok, facile, non c'è da dimostrare il valore. Ma quando fai una cosa talmente innovativa, esattamente come nelle start-up che possono essere incubate qua, devi dimostrare che vali soldi, tanti che ti vengono investiti, quindi devi dimostrare il valore di ciò che stai costruendo. E non è sempre molto facile, specialmente se si parla di fare cose legate alla comprensione del testo. Perché, non so, un algoritmo semplice, vorrebbe essere, di quelli che ho visto fare, il testo di sommario, quindi un modello che fa il sommario di un testo, come fai a sapere se quel sommario va bene o no? Lo dovrebbe rileggere un essere umano, ok? E se questo sommario cambia, perché il modello è evoluto, andrà sempre bene oppure no? E sono tematiche un po' diverse rispetto al software tradizionale. E poi, visto che non ci mancava niente, l'idea è, sì, ma non facciamo un prodotto, facciamo una piattaforma, perché questo tema è talmente ampio che c'è da farne di cose, quindi non facciamo la robina solo per ora, facciamo più una piattaforma che possa servire in futuro anche altri use case. E quindi c'è tutto il tema della riusabilità. Quindi, non so, in una scala da 1 a 10, la complessità di questa roba qua, io la metto fra... Ora, io con l'ardure ho lavorato anche in ambiti particolari, sono stato tramite Saminche a vedere l'aerospaziale, l'aereo militare, quindi la complessità si è abituato, per l'amor di Dio. Ma insomma, ecco, della roba che si vede di solito in giro, non era nella faccia a livelli più facili, si colloca nettamente nella faccia più alta. Allora, un paio di elementi tecnici per chi è familiare con l'agile, va bene, con Scrum gli dirà un sacco di cose questo schema, per chi non è familiare, cerco di rappresentarvi in parole semplici di come ci siamo organizzati. Allora, nello Scrum la metafora è quella di una squadra, quindi che cosa è una squadra? È un gruppo di individui che lavorano insieme e si aiutano per raggiungere l'obiettivo comune, che è quello della squadra, ok? Qui davanti c'è due posti, se volete avvicinare, mettetevi a sedere, e uno qui di fianco, guarda, ci sono tutti. Venite, venite, ci sono tre sedie. Venite, venite. Quindi per evitare di avere una singola squadra con più di dieci persone, che abbiamo scoperto anche l'altro esempio, ora i due non si conoscevano in realtà, però dalla letteratura sappiamo che le squadre troppo grandi sono un problema. Quindi per evitare di avere una squadra troppo grande, qual è stata l'idea? Facciamo una squadra di squadre. Quindi una squadra di squadre è un gruppo di squadre che lavorano insieme e si aiutano per raggiungere l'obiettivo comune, quello della squadra di squadre. Quindi l'organizzazione, il progetto di managgimento tradizionale ha l'idea del portfolio, progetto portfolio, quello di mettere sopra delle strade. Quindi l'idea era un'organizzazione fatta a muffattare, cioè le dinamiche che utilizziamo fra individui per farli lavorare insieme come una squadra, le utilizziamo anche per far lavorare insieme più squadre. Quindi è semplicemente, semplicemente tra virgolette, uno zoom da lontano, allontanarsi dalla telecamera e trattare le dinamiche fra squadre come le dinamiche tra individui. E quindi siamo partiti con una roba che nello scrame si chiama product backlog. Il product backlog è la lista delle cose che vogliamo vedere realizzate, ok, ordinata per priorità. Avevamo un solo product backlog per la squadra di squadre. Quindi non abbiamo usato l'approccio del divide ed impera, ovvero prendo il problema, lo divido sotto problemi e quindi poi separo il lavoro alle squadre e poi dopo lo metto insieme. Perché? Perché chi di voi sviluppa software sa che l'80% del rischio dello sviluppo del software è il rischio di integrazione. Cioè abbiamo fatto delle parti quando le mettiamo insieme non funzionano. Sipuratamente funzionavano. Questa cosa qua è comune a tutte le discipline e tutte le ingegnerie. Ci sono degli aneddoti di roba, anche dei pezzi della stazione orbitale, la ISS, sono stati fatti separatamente, poi hanno messo insieme e sono resi conto che qualcuno pensava in pollici e quell'altro in centimetri e hanno buttato via dei milioni. Sta parlando di gente estremamente intelligente. Singolarmente sono tutti dei geni. Perché uno dice ah, che sciocchi. No. No. Tutta gente intelligentissima. Eppure se l'idea di separare divide ed impera l'aveva inventato Giulio Cesare ma per conquistare la Gallia non per scostruire un software. Chi l'ha detto e funziona anche nel software. Occorre avere bene l'idea dell'insieme quando si fa il particolare. E quindi l'idea è di avere un product backlog, una lista chiara di cosa vogliamo ottenere e un incremento. Ogni iterazione che anche per loro erano due settimane ogni due settimane tutto ciò che facciamo ancorché separati ma con un forte allineamento lo rimettiamo insieme e lo proviamo a cadenza bisettimanale in modo che non evitiamo il fatto che te pensi in pollici e io in centimetri. E l'accountability, la responsabilità risiedeva nel team e nella sua interezza. per far questo quindi non è lo scrum che trovate sul sito dello scrum ma si utilizzano i cosiddetti pattern. Che cosa sono i pattern? I pattern vengono dall'architettura sono una soluzione elegante a un problema ricorrente nel suo contesto. Quindi ad esempio in architettura abbiamo il capitello che cos'è il capitello? Se io ho un edificio una struttura da sostenere posso utilizzare il pattern muro e con il muro sostengo una struttura superiore ma non passano le persone non passa l'aria non passa la luce. Posso usare alternativamente il pattern colonna che mi permette comunque di sostenere questa struttura ma in una maniera diversa. Nel momento in cui ho la colonna la superficie d'appoggio tra la struttura superiore e quella della colonna è data dalla sua circonferenza e quindi che ho fatto un po' di ginghiera civile sa che quell'equilibrio non è così stabile. Il capitello amplia la sezione della colonna di modo che aumenta la stabilità e quindi si riesce meglio a connettere le colonne con strutture superiori. Quindi il pattern funziona in un certo contesto? Avere un capitello in un muro non ha senso o meglio se li vedete a Roma ce li sono ma perché? perché prima c'erano le colonne non perché ci hanno messo un capitello dentro un muro e il pattern risolve un problema ma in un determinato contesto. Dalle scuole ricordiamo vagamente qualcuno molto bene altri che c'erano dei capitelli chiamati dodici ionici corinzi ovvero diversi pattern messi insieme danno uno stile questa roba quindi viene dall'architettura l'ha inventato un certo Alexander e Alexander dice che i pattern sono un modo con cui una community si scambia il concetto di eleganza che cos'è l'eleganza? è qualcosa artificiale che ha fatto l'uomo mentre la bellezza è naturale quindi con i pattern si può creare degli stili mettendoli insieme e socializzarci concetti di eleganza e quindi si va anche spoiler alert è un discorso di mode ci saranno dei periodi in cui un insieme di pattern vanno per la maggiore e un insieme di pattern che in altri periodi vanno di meno riatterriamo di che sto parlando parlavo di team intelligenza artificiale anche le organizzazioni possono essere disegnate per pattern quindi per disegnare le organizzazioni si può utilizzare i pattern il libro più recente su questo argomento si chiama A Scrum Book sta pubblicato nel 19 questo è un libro vecchio nuovo nel senso che la ricerca che ha composto questo libro è di 20 anni quindi è roba vecchia tutto sommato niente che sta inventato recentemente ma essendo stato presentato poco prima della pandemia la maggioranza dei practitioner di Scrum non lo conosce e quindi cerchiamo di recuperare il gap lo potete guardare gratuitamente con l'indirizzo scrumbook.org quindi diciamo chiudo qui l'argomento didattico su che cosa sono i pattern dello Scrum quindi per chi fa già un po' di Scrum che cos'è questo libro? è un gruppo di Scrum Master di tutto il mondo che si incontrano un paio di volte all'anno questo gruppo è stato fondato da Jeff Sutherland sulla destra che appunto è l'autore di Scrum Mike Beedle il secondo da sinistra che è la prima persona che ha implementato Scrum in un'azienda dove non ci lavorasse Ken e Jeff i due autori di Scrum e poi ci incorpere gli Harrison che avevano fatto un'altra pubblicazione all'inizio degli anni 2000 proprio sui pattern organizzative insieme hanno lanciato questa community che è attiva tuttora per cui a giro per il mondo ci sono persone che provano a far lavorare bene insieme delle squadre vedono dei problemi provano delle soluzioni li funzionano e quindi vanno a questa community e dicono oh sai a questo problema ho risolto in questo modo qualcun altro riprova la stessa cosa quando c'è abbastanza consenso che quello lì è un pattern quindi è ripetibile quindi si sa ci sono istruzioni per poterlo implementare ecco che si viene pubblicato e finisce nel sito quindi la squadra di squadre è un pattern qual è il problema ho più di 10 persone da far lavorare insieme sullo stesso prodotto posso usare tante soluzioni la soluzione che ho utilizzato in questo contesto è quella di fare una squadra di squadre quindi mantenere il gruppo che lavorava piccolo ma mantenendo un coordinamento molto stretto tra i gruppi questo nello scram si chiama in maniera molto originale scram of scrums ecco il product owner abbiamo detto che questa tecnologia estremamente versatile aveva una pletora di persone così diverse con cui parlare che aveva difficoltà a riuscire a farlo da solo quindi anziché fare il divide ed impera cioè separiamo facciamo tanti product owner e poi capitanati da un produttore capo che è uno degli approcci che si vede in giro abbiamo fatto un pattern diverso si fa una squadra è un po' il pattern del chirurgo cioè in sala operatoria il chirurgo non è che ci sono 10 chirurghi in sala operatoria c'è il chirurgo c'è l'assistente che è in grado di operare esattamente come il professore ma c'è l'anestesista c'è le infermiere ci sarà ok il ferrista e così via cioè la squadra amplifica la capacità della funzione primaria quindi l'idea del PO team era avere delle personalità che amplificavano la capacità del singolo product owner ma da fuori dovevano sembrare un solo product owner perché? perché non volevamo avere il problema che poi le squadre vedessero degli ordini di priorizzazione discordanti ha detto tizio si fa così ha detto caio si fa cosa ma l'idea era di avere un solo backlog una sola priorizzazione e su quella avere un consenso prima di andare a disturbare le squadre all'interno del produttore e il team e poi vivere insieme ciò che doveva essere fatto e questo vivere insieme ciò che doveva essere fatto si chiama meta scrum cioè nello scrum abbiamo la singola squadra che cosa fa? fa un evento chiamato raffinamento del backlog perché prima di incominciare a lavorare a delle robe si chiarisce sul cosa c'è da fare la chiarezza ok? è il momento in cui si cerca chiarezza noi abbiamo fatto il frattale di questo momento chiamato meta scrum in cui prima ancora di discutere del cosa c'è da fare a livello di chiarezza si capisce cosa c'è da fare a livello di priorità e di a chi serve e perché e in questo ambito il produttore del team poteva decidere quali erano le cose più importanti in che ordine e solo dopo andare a chiarificare cosa fare questo per evitare di star lì a discutere e chiarificare della roba che non è particolarmente imminente e quindi dover preparare troppo prima del lavoro e quindi se voi vi anticipate troppo il lavoro che cosa succede? che vi dovete scrivere tanti appunti per ricordarvi ciò che vi siete detti avere invece le discussioni vicino al momento in cui dovete implementare le cose riduce la naturale necessità di documentazione esaustiva si risparmia tempo è molto più facile comunicare e fare i chiesi sviluppatori vi diranno è anche molto più divertente piuttosto che scrivere documenti parlare e sviluppare è il motivo per cui probabilmente hanno fatto quella scuola chi ha lavorato già in squadra e vuole avere un esempio il meta scram anticipava di una giornata e mezzo circa quindi se il raffinamento era tipo il pomeriggio il giorno dopo il giorno prima la mattina si faceva il meta scram di modo che quando si arrivava a parlare con la squadra c'era abbastanza chiarezza su cosa c'era da fare quindi per chi fa scram sa che c'è la cosiddetta definizione di pronto ok quindi quando è una cosa pronta quando è chiara abbastanza per essere sviluppata e noi avevamo due momenti però due scalini e quindi ero partito a fare coaching a questa squadra e dire quando è che una cosa può essere portata alla squadra quando è good enough quando è buona abbastanza e quindi avevamo la definizione di buono e la definizione di pronto poi i dettagli troverete tutti nel libro chiaramente ora io cerco di farla discorsiva e non troppo pesante per chi non è detto lavori bene come dividere le squadre c'è una legge in letteratura che si chiama la legge di Conway la legge di Conway dice che l'architettura di un prodotto riflette l'architettura dell'organizzazione che lo ha creato Elon Musk parlando di SpaceX su YouTube lo troverete dire che gli errori del prodotto riflettono gli errori organizzativi quindi se io il padre dell'open source Eric Raymond nella cattedrale Bazar anni 90 scrisse un libro per insurzio che potete scaricare qualcuno va a fare di sicuro se lo conosce se date a 4 gruppi di fare un compilatore vi farà un compilatore a 4 passi quindi l'idea di come comunichiamo non è soltanto un problema perché poi non ci capiamo e non consegniamo il prodotto come abbiamo visto prima ma potrebbe anche avere un impatto sulle scelte dell'architettura del prodotto e questa cosa per certe aziende quando la racconto è un pochino desolante perché di solito l'organizzazione ha disegnato risorse umane che di prodotto non sa nulla ma la decisione di quante persone prendiamo e quali skill e come le faccio parlare fra di loro ha un impatto nel prodotto e quindi occorreva trovare un modo diverso da quello di Cesare con i Galli per dividere il prodotto e quindi come ho fatto io venivo da questo dallo scrum applicato a prodotti fisici e c'è un vecchio video che utilizzavo come icebreaker per un esercizio e facevo un classe prima della pandemia in cui si cerca di costruire una macchinina facendo scrum e tutti si divertono usando lego e varie costruzioni e però effettivamente era un modo per provare questo metodo e facevo vedere questo video a faraday future engineers have developed a new innovative variable platform architecture we started from the ground up with a new battery structure that's arranged into what we call strings adding or removing these strings both changes overall battery capacity and allows us to develop new wheelbases other than crumple zones which are optimized in each specific configuration for safety the front and rear sections remain the same the fff platform the fff platform also incorporates various motor configurations ranging from one to three or with special modifications for motor layouts we are able to alter vehicle characteristics including two or all wheel drive systems extended range options and various power outputs all using the same platform architecture this intelligent modular approach built on a flexible battery layout and multiple powertrain configurations means we have the potential to deliver an extremely diverse range of vehicles to market faster and more efficiently than previously thought possible finished e quindi avevo questa fonte di ispirazione figata no? c'hai le batterie aggiungi batterie puoi fare macchine con più autonomia ma anche più grandi e la stessa riusabilità ti permette anche di aggiungere togliere i motori una batteria è una roba che fai ma mica necessariamente di andare in una macchina potreste utilizzare anche come accumulatore per la casa infatti tesla fa così potete utilizzare anche da attaccare ai pannelli solari infatti tesla fa così quindi la batteria di per sé è un piccolo prodotto e c'è questo concetto tra modulo e componente cioè l'idea che abbiamo nel in generale ma nel software in particolare è che si vede sempre componenti prima parlavamo front-end back-end che cos'è un componente? è un pezzo del prodotto e la linea di confine è data dall'aspetto tecnologico quindi è una macchina e le ruote sono un componente perché? perché poi dopo comincia il freno e il freno è un pezzo diverso magari lo fa un fornitore diverso l'idea del modulo invece è che di per sé è un mini prodotto e in qualche maniera serve un certo purpose diciamo e non so come ci sono arrivata questa cosa vi non me lo ricordo ma la cosa che a un certo punto mi si è acceso la lampadina chiacchierando con una delle persone del team è questa relazione bidirezionale che c'è nella macchina elettrica cioè la macchina elettrica usa le batterie per alimentare il motore così che vi spostate ma una macchina elettrica quando rallentate il motore e carica la batteria esattamente un modello di NLP che usi i dati per creare il modello e poi usi il modello per arricchire i dati e quindi c'è questa relazione bidirezionale mi piaceva l'idea questo è un tema molto vecchio nel stream programming anni 90 già ne parlavano della system metaphor di avere una metafora del sistema per poter creare un cosiddetto ubiquitous language cioè un linguaggio che è comprensibile ovunque quindi dire usare una metafora fisica qualcosa può essere rappresentato che separa tre ambiti del prodotto che hanno un ciclo di vita diverso e anche una riusabilità diversa e quindi ho detto questo potrebbe essere una simpatia metafora per il nostro sistema e quindi si è partito identificando tre moduli il nostro prodotto avrà il cosiddetto veicolo che è la parte che gli utenti vedono e quindi quello che ha il ciclo di vita legata all'applicazione le batterie che dove risiedono i dati ok per chi arrivava tardi questo canvas è anche nel mio sito da scaricare gratuitamente quindi lo trovate poi come pdf di per sé serve al veicolo per muoversi e scusate per alimentare il motore e muoversi ma anche per alimentare l'abitacolo quindi la relazione non è solo legata al motore ma è legata anche una relazione diretta ma può essere usato da qualche non altro nel caso di fonte dati arricchita parti diverse dell'organizzazione possono voler accedere alla stessa fonte dati ma in una maniera alto livello non vorranno entrare direttamente nel database e quindi si parlerà di dati e rich data as a service il motore altri potrebbero voler arricchire i loro dati usando il nostro motore che è già stato allenato sulla base dati proprietaria dell'azienda che peraltro il problema è che spesso contiene anche intellectual property quindi non non è bello da dare fuori e quindi anche molto costoso perché devi fare tutto in house e quindi se riesci a fare un qualcosa che puoi rispendere al tuo interno il ritorno di investimento è molto più alto non solo singole product backlog items user story per chi fa questo lavoro potrebbero cadere in un solo modulo e quindi potremmo dividerci sui moduli perché perché il confine dei moduli è business non è più tecnologico per chi è un po più tecnico il database è scensato da tutte le parti perché il veicolo c'ha il suo database le user preference non sono né nelle batterie chiaramente sono nel veicolo perché se cambia veicolo avrà i suoi utenti avrà le sue preferences ok l'iper parametri da parte di dati legati a modelli e sandi sotto non è che front end e back end e database sono tre mini prodotti e cosa abbiamo utilizzato quindi abbiamo utilizzato una skill matrix una matrice delle competenze che di solito si fa sugli individui sulla squadra quindi ogni individuo si relaziona rispetto i moduli dice come sei tra junior e senior e master junior posso lavorare ma devo essere guidato senior posso lavorare non ho bisogno di aiuto master sono così bravo e posso anche insegnare a junior e seguirli e nel formare le squadre non abbiamo fatto il team blu il team arancio ultime giallo ma mettendo persone di di confine in entrambi i team ma avuto una possibilità prima di tutto di riutilizzare le squadre meglio perché se arrivava solo lavoro per un certo modulo non c'era un solo team e poter lavorare su quello certo qualche team era più veloce su quell'ambito qualcuno era più lento ma questo va capita sempre ma era molto più semplice lavorare su team cross funzionali su modulo piuttosto che lavorare su team componente l'altro aspetto è che in questa maniera c'è ci avevamo una metafora visiva e un framework non solo per fare scale up aggiungiamo squadre ma dopo le primi due rilasci fare scale down ok adesso si va per un po in maintenance finché non ci danno dei nuovi requirement e quindi con questa visualizzazione rispetto ai moduli abbiamo potuto fare sia scale up e scale down poi per chi è interessato abbiamo fatto anche fork quindi siamo anche separati su progetti paralleli in questa maniera ma mettendo una consistenza di riusabilità conosciuta a tutti inclusive di business a questo punto perché la metafora è comprensibile anche a persone di business si deve quello che ci sta chiedendo mi va su tutti e tre i moduli quello che tu mi stai chiedendo va su un modulo solo è comprensibile per una persona di business a questo livello di semplificazione e quindi ad esempio passare da una piattaforma come quella google a quella di amazon ho voluto dire quanti moduli impatta tipicamente modelli quindi batterie e motori in che modo se c'hai delle interfacce esposte ti prepari ad avere già dei test agganciate su quell'interfaccia ti permette di far non regressione tante belle cose la modularità è bella sempre ma quando c'hai tanta complessità forse è l'unica via di salvezza quindi secondo voi quali sono le parole chiave di questa storia team agile metodo cooperazione l'organizzazione sono belli grossi anche agile e bello grosso sono parole un po più popolare e una cosa che non ho detto questo team andava in produzione dopo un anno quindi rispetto a quello di prima è riuscito a negli obiettivi che si erano dati ok seconda domanda quindi tenete il telefonino a portata di mano se continuate a rispondere poi il sistema lo salva quindi non vi preoccupate che cosa volete sapere quindi provate a scrivere qualche domanda così poi dopo le vediamo e provo a risponderle quindi che cos'altro volete sapere di questa storia o anche di prima se volete ok la prima domanda e ai punto interrogativo di potete lavorare meglio dimmi tutto sì ancora di ai a parte diciamo la faccenda del data science comunque ora mi bacchetterai però hai illustrato sostanzialmente un metodo su quella grande teoria del project management quindi agile e scrum con tutti i problemi che si porta dietro quindi la metodologia e a un certo punto hai detto come l'intelligenza artificiale quindi data science quindi la data science meglio può interagire per migliorare i processi di interazione di comunicazione e evitare i problemi che dagli anni x si tramandano un po' quando si arriva in produzione sì il punto interrogativo è ok d'accordo in questo momento sembrerebbe che tu sia arrivato a tirar fuori il coniglio dal cilindro mettiamo insieme ai ai e tutto quello che è stato detto fino a questo momento questo è il punto interrogativo allora il il tema è questo artificial intelligenza agile development with scrum and ml ops ora all'inizio ho fatto non so se c'è già arrivato ho fatto un po' un questionario no delle cose quindi ho visto poco quindi ho volato un po' basso quindi l'idea è sviluppare un'applicazione che ha delle parti di intelligenza artificiale ora questo parte in questo le cose che ho mostrato finora sono principalmente machine learning no si va col pilota automatico si lavora in scrum o c'è da avere delle accortezze il mio libro parla di questo quindi una cosa molto di nicchia c'è tanta roba che vanno bene anche per software tradizionale ok il fatto di fare un'applicazione di software tradizionale che ha anche pezzi di machine learning in particolare complica la cosa altrimenti cioè ho visto gente che nella parte software non avrebbe fatto certi errori se la sarebbe cavata tranquillamente lavorando in scrum ok quindi siamo rispetto al mercato già un gradino sopra perché di solito molte persone si incasinano a fare scrum nel software tradizionale mettendoci anche ai ho visto persone che con il software tradizionale non si sarebbero incasinate incasinarsi quindi quali sono i pattern perché poi il libro è di internet quali sono i pattern aggiuntivi a scrum della famiglia o comunque di scrum quindi non è che inventava nulla ma della collezione di pattern che ci sono nel libro dello scrum quali sono quelli che particolarmente aiutano nel caso di un prodotto estremamente più complesso dello standard che c'è in giro questo è il tema ok ho risposto cioè ti ho risposto alla domanda il contesto ok ok poi ci sono dei temi molto tecnici che non non posso nemmeno trattare perché dovrebbe essere un workshop tecnico ad esempio come si fa a fare continuous integration anche con i modelli no l'ml ops come si fa si vai su le varie piattaforme se vai su google su amazon ti dicono bene metti queste robe qui va a vedere le aziende e scopri come dicevo all'inizio che i data scientists metà del tempo lo passano per mettere la produzione perché è tutto manuale perché magari la parte di automazione del ciclo di sviluppo è completamente assente e quindi te c'hai dei modelli in produzione e non hai più modo di ritornare ai dati originali ai parametri per creare lo stesso modello ci sono delle cose nelle big corporation particolare in questo momento che sono chiara startup per assurdo avendo meno burocrazia avendo una scala più piccola tende a fare meno errori che è l'idea della pallottola d'argento no cioè project management ha l'idea di essere una disciplina che poi lo ci costruiscono ponte ci costruiscono le cose no quel pmi book è quello partiamo all'incontrario partiamo da un framework leggero come scrum cosa dobbiamo aggiungere per avere uno sviluppo abbastanza sostenibile abbastanza con un ritorno dell'investimento poi decente nel senso se uno fa solo accademia fa modelli scrive paper stavo fatto per per diversi anni però le industrie si aspetterebbero no metto dei soldi in un progetto e poi riesco a darla a qualcuno che c'ha del valore disposto a cambiare con me questo valore questo sembra essere un tema molto difficile in questo momento da quello che si legge in giro e da quello che ho visto insomma prego giusto per mettermi nei panni di come dire di un bambino si ti farebbe questa domanda si io credo che qui sicuramente io ecco insomma provengo dal mondo non dei sistemi enormemente complessi mettiamola così ma diciamo del mondo startup noi sappiamo che concettualmente l'ha fatta un'impresa temporanea operabile quindi non ha la complessità di una big company che deve come detto te immaginare già dal backlog il prodotto finale che debba avere quindi il sistema silos eccetera ma se io fossi una linea e ti chiedessi ma questa diciamo l'implementazione degli AI nel metodo IPM tradizionale può valere anche per gli sistemi non enormemente complessi si nel senso che se fai un prodotto fortemente modularizzato con una facile riusabilità anche se hai una startup di 5 persone qual è la differenza che ora vai per la strada maestra e dici ah faccio la mia applicazione la vendizzo io e la metto sul mercato non funziona posso fare un white label in un attimo e andare sul mercato B2B con le aziende posso vendermi fare la exit verso una grossa azienda che vuole integrarmi nei suoi sistemi anziché andare sul mercato cioè la modularità aiuta sempre la storia che ho raccontato comunque anche se in seno una grossa azienda per me io ci ho vissuto dentro una da fuori e una da dentro era a tutti gli effetti da startup cioè c'hai l'investitore qui sul collo che vuole sapere dove siamo arrivati e a un certo punto può staccare la spina come esattamente nelle startup quindi il concetto di quello che non avete nei startup è quando partite la burocrazia inflitta di default ok quindi siccome si è sempre fatto così anche nella startup interna si continua a fare le cose in questa maniera nella startup non ci dovrebbe essere questo poi vedo che magari ci sono persone che vengono ad altre aziende c'è la burocrazia auto inflitta e quella a volte è anche più difficile da eliminare perché tu la sei inflitta da solo e quindi è difficile dire ah ok allora dovrei toglierla quindi da una parte le startup e infatti le startup vanno in produzione più spesso delle big corporation le big corporation sono a pari il problema della startup è quando superi i numeri cioè quando metti a grow up innanzitutto ci sono dei limiti il 10 è il primo limite sappiamo no? cioè se finché sei meno di 10 un team un'azienda il mondo è più bello del mondo ci sono delle robe che si legge in letteratura borland 4 pro un foglio di excel un foglio elettronico fantastico ai tempi negli anni 90 era meglio di excel l'hanno fatto in 4 sono diventati 8 quando sono andati in produzione perché c'era uno che faceva manuali uno che faceva i test aggiuntivi cioè ci sono delle cose Skype è stato fatto in 20 quando arrivi a 150 persone è il cosiddetto numero di Dunbar cioè non è più una tribù ma automaticamente c'è una maggioranza in opposizione le startup dov'è che si incasinano infatti quando fai l'S cresci fai a grow up e fa il salto diventi corporation e rischi di perderti per strada diventi un sistema complesso la cosa interessante è che ora io non ho mai trovato un'azienda per ora che ha una dimensione di 2000 persone solo sull'AI e solo sullo stesso prodotto ancora no 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 anche perché appunto la pandemia non è che girava tanto quindi tutta la cosa è remote però ad esempio il metodo che ho utilizzato del frattale della squadra di squadra di squadra di squadra di squadre lo utilizzano aziende potete scaricare dal mio sito la sub aeronautics in Svezia fanno un aeromilitare che si chiama griffen lo sono 2000 persone a lavorare sul modello E usano questo sistema cioè il modello da squadra di squadre è un pattern che scala quindi se una startup oggi si cominciasse a pensare a modalità dal giorno zero che costa meno cominciasse a pensare in maniera frattale non in maniera lineare come si pensa se non siamo un minimo di cultura sei già ready sia per essere molto agile e cambiare direzione e stia volendo per scalare perché se scalare in quella maniera Spotify l'ha fatto vedere arrivi a discreti numeri quindi la startup è sicuramente un'opportunità per fare bene le cose dall'inizio strumenti da usare di che ti? chi è la domanda? non è se software blame l'autocollettore come? no scusa non ho capito software è come un doppio viene per usare in sé ah strumenti software strumenti software da usare dici per gestire la squadra? ma quelli standard usano tutti si è usato un sistema di tracking delle cose da fare vabbè loro hanno usato la suite da thrashan cambiando un po' di robe documentazione condivisa delle lavagne real time per poter interagire ragionare e fare co-design poi tanto visual quindi ad esempio il canvas vi ho fatto vedere noi dove si usa lì quando fai il planning per decidere una storia come ti divide a lavorare ci sa dei color code anche sui componenti interni ogni persona c'è i suoi colori e quindi si fa si mettono lì mattoncini vicino si fa no la rappresentazione del bilanciamento dei colori durante lo sprint ah vedi sto sprint c'è da lavorare più di qui che di qua c'è nessuno che senza lavoro c'è qualcuno è solo a carico quindi si usa molto visualizzazione ma i strumenti sono gli stessi cioè niente di niente da segnalare ecco una cosa molto il prodotto non posso farvi vedere il ciclo di sviluppo di modelli ha dei pattern dedicati di chi è questo e la segnalare poi che contiene no? ah si no non si fa esatto non si fa non si fa la stima solo ad alto livello della storia business end to end non fai la stima del piccolo e quindi si va grosso per pieno cioè per fare il modello l'algoritmo di sentimento ci si è messo 5 sprint per fare questo qua di sommarizzazione secondo me ci si dovrebbe mettere 10 cioè nel planning come stai? al raffinamento ah si di pancia la pancia degli sviluppatori dopo un pochino la pancia di squadra che sarebbe in realtà l'intelligenza colettiva la pancia della squadra che ha lavorato un po' di tempo insieme è molto più affidabile di qualsiasi strumento o metodo quindi semplicemente quello dà il supporto alle persone e poi si cerca di non sovraccaricarsi quindi si parte prudenti eventualmente si aggiunge lavoro dopo quindi c'è questo approccio di avere dei task nel product backlog marcati xs extra small che sono quelle piccole correzioni quelle cosine se no non faresti mai perché vanno sempre a bassa priorità in testa al backlog se si finisce prima si prende un po' di pelle e si riempie lo sprint e si parte bassi si si partire prudenziali lasciare spazio è un pattern il team che finisce prima e poi due settimane la volta dopo si chiedono il doppio perché se lo vogliono prima e quindi no invece abituarsi a rispettare le aspettative aiuta a andare bene si deve tagliare le ombre come funziona si chiude se siamo a posto possiamo chiudere ciao a tutti io sono Andrea Grazia e sono la prima immagine di una bianca rotta nell'ombra da ascoltare e non so se ci sono delle ultime domande magari le possiamo vivere anche uscendo dalla spada se Paolo rimane ancora qualche minuto e la saluta ti volevo ringraziare no no va benissimo quindi salutano noi andremo al bar e continueremo la conversazione lì quindi chi ci segue da indifferita sa che da questo momento in avanti la conversazione diventerà più interattiva perché c'è anche un po' di iconice io ringrazio tantissimo Paolo spero che sia stata una serata interessante per tutti quanti e... grazie grazie